Pronto, buongiorno, Biblioteca Lazzarini, come posso aiutarla? Salve, senta, io da voi di solito prendo soltanto i libri, però mi hanno detto che avete anche i cd musicali, ma come faccio a sapere che cosa avete di preciso? Sì, abbiamo sia cd musicali che altri tipi di multimediali. Per sapere se questi sono disponibili in biblioteca e al prestito, deve controllare il sito della biblioteca. Se è un attimo, le faccio vedere come questo funziona. Certo, volentieri. Il catalogo lo puoi trovare dal sito della biblioteca Lazzarini. Se vede qui in alto a sinistra c'è il link che porta al catalogo. Le sapono tutta una serie di cataloghi. Quello che le interessa è il primo, che le permette di trovare cd, dvd e libri. Cliccandoci sopra, apri il catalogo vero e proprio della biblioteca Lazzarini, come scritto qui in alto. Ora, avevi in mente qualche band particolare, autore particolare? Ma sì, un cd di musica rock. Non lo so, avete qualcosa di Queen, per esempio? Sicuramente sì. Per trovare quello che abbiamo da Queen, deve utilizzare il campo autore, ovviamente. Scrivendo Queen e dando invio, viene fuori tutta una serie di risultati. Però questo tipo di ricerca non è molto precisa. Per essere precisi, deve utilizzare l'opzione Limiti e ordinamento. Cliccandoci sopra, aggiungi un filtro a questa ricerca. Se scorre fino in fondo, troverà quest'area e in basso troverà la sezione musica. Dando un'altra volta Esegui, le farà vedere il catalogo, i risultati con soltanto i cd e dvd riguardanti la band in questione. Perfetto, ma come faccio a sapere se quei cd lì sono presenti in biblioteca in questo momento? Dunque, per vederlo, deve cliccare sul cd che le interessa, per esempio, Greatest States of the Queen, e si apre la scheda vera e propria del materiale. Troverà all'interno che, per esempio, alcuni materiali come questo cd sono presenti in più di una biblioteca. Ovviamente deve fare attenzione a cercare la biblioteca che le interessa. Trova la collocazione che le fa vedere esattamente dove si trova all'interno della biblioteca questo materiale, trova se il materiale è ammesso o meno al prestito e soprattutto trova, in fondo, la disponibilità di questo materiale, cioè se il materiale è presente in biblioteca oppure fuori in prestito. Perfetto, grazie mille, vengono appena a posto. Grazie a lei e buona giornata. Ciao!